Buongiorno, ben svegliati, buoni inizi. Inizio di settimana e questo lunedì 29 gennaio, ben ritrovati con la rassegna stampa di mattino 6, siamo pronti per andare a sfogliare i giornali che già trovate in edicola. Ovviamente in questa prima parte spazio alle prime pagine, come ogni lunedì, tanto, davvero tanto sport, soprattutto nella seconda parte. Iniziamo con le quattro edizioni del centro, partiamo con l'edizione di Pescara, telecamere contro vandali e incivili. Questa è l'apertura, pugno duro del comune per combattere degrado e delinquenza, impianti che saranno realizzati entro l'anno. Nella parte alta le questioni politiche verso il voto del 4 marzo, Forza Italia escluso di Stefano al suo posto di Nino e ricompare anche Razzi. Questo per il centro-destra, centro-sinistra. D'Alessandro resta capolista via la candidata a Nibali. Scendiamo in centro pagina con le questioni che riguardano proprio lo sport. Il Pescara che presenta Macin e torna su Embalo, calciomercato che finisce mercoledì sera alle ore 23. Nella foto vedete un corrucciato Zdenek-Zeman con il Pescara sconfitto venerdì sera dal Perugia. Nelle cronache, vediamo via Muzzi, barricate contro la pista ciclabile, scatta la protesta. Ovviamente siamo a Pescara, a Pescara rimaniamo via d'annunzio sull'auto rubata in fuga preso dai carabinieri. In basso, ladri nelle case, ci sposiamo in provincia, rubata anche una cassaforte. Sotto la fotonotizia vediamo altre due spunti di sport. Corsa a tre per la presidenza, oggi le elezioni in FIGC, l'Abruzzo ti fa gravina. Per il tennis, invece, sesta volta agli Open d'Australia, Federer trionfa a Melbourne. Si è realizzato un sogno, ventesimo slam per il fuoriclasse svizzero. In basso, fanno in delirio per i Mane Skin, la benda a Pescara per presentare il primo album. Un modello per noi adolescenti, sono belli e se la godono. E poi in headbox, addio a Campra del fondatore di Ikea che aveva 91 anni. Questa è la prima pagina del centro di Pescara. Cambiamo provincia, andiamo nella provincia di Chieti con l'edizione di Chieti, il lanciano vasto proprio del quotidiano. Cambia ovviamente il titolo. Nell'armadio la droga dello sballo. Chieti, anfetamine e marijuana pronte allo spaccio, nascoste in casa di un disoccupato. Scendiamo, ovviamente cambia la foto e cambia anche la geografia dello sport che viene analizzata. Cade la Vastese in serie D e in eccellenza il Chieti è ripreso al secondo posto domenica in chiaroscuro. Nelle cronache a San Salvo scopre un ladro nel suo negozio e lo picchia. A Lanciano, imprenditore in bici travolto sulla pista ciclabile. E poi ci spostiamo nel Sud Abruzzo a Punta Derci. 800 no al Cementificio. Ovviamente il resto della pagina, come vedete, rimane identica. Altra provincia, quella Teramana. Apre con la cronaca, muore nello scontro fra due auto. Frontale, nei pressi di Montorio, la vittima è un cinquantenne di Isola del Gran Sasso. Questioni di sport nella fotonotizia perché Roseto vince il match salvezza contro Orzi Nuovi 85 a 69. E dunque si rilancia nella corsa alla salvezza diretta. Vediamo nella foto Carlino, arrivato in corso d'opera in casa bianco-azzurra, ma davvero protagonista del match. E non solo di questo, nelle cronache, tanti ragazzi per l'addio alla pattinatrice Siria Reale, studentessa e campionessa di pattinaggio di Silvi. Morta Verdi scorso per una terribile malattia all'età, pensate di 14 anni, si sono svolti i funerali a Silvi. Messa di insediamento, ci spostiamo ad Atri, il Vescovo farò riaprire la cattedrale. Ovviamente parliamo del Vescovo della diocesi di Terra Moatri, Leuzzi, Isola del Gran Sasso. In Trecento cancellano le scritte razziste apparse nei giorni scorsi. Quarto, ovviamente ci spostiamo nella provincia aquilana. Palazzo di Giustizia, pochi servizi. L'Aquila, il presidente della Corte d'Appello al Comune, servono parcheggi e bar. Sport, anche qui nella foto, l'Aquila e Avezzano, due vittorie nella corsa ai playoff. Questa è la domenica dello sport. Nelle foto, Claudio Caffiero dell'Aquila in gol ieri anche contro la San Giustese. E' il man of the match della gara dei Marsi tra Avezzano e Vispesaro, Matteus Dos Santos. Vediamo le cronache. Sul Mona, la SNAM, il metanodotto è a prova di sisma. Ad Avezzano, asilo comunale. Ridolfi, vogliamo riaprirlo presto. A Sul Mona, pestato a sangue, forse picchiato per la droga. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne, sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente, edizione Abruzzo, l'apertura è dedicata alla politica. Brivido d'Alessandro nel PD. Corsa le candidature, il fedelissimo di D'Alfonso. Ha rischiato di cedere il posto a Lucia Annibali. Nel partito avanza il fronte degli scontenti. Sorpresa nel centro-destra, testa in vantaggio sulla Petri. E poi ci spostiamo a Teramo. Scritte fasciste, lo sdegno di Teramo. Da Di Sabatino, il presidente della provincia, l'invito a reagire in alto. Sport Pescara. Oggi Fiamozzi e Macin. Fiducia a tempo per Mr. Zeman. Per il rugby, l'Aquila al tappeto. Che peccato aveva dominato i Lions per un'ora. Per la serie D, Avezzano in grande spolvero, Francavilla e l'Aquila. Sono una domenica vincente. A centro-pagina, ancora cronaca. Chieti, marijuana e anfetamine, droghe da discoteca. Oltre mezzo chilo di sostanze sequestrate in casa di uno spacciatore stretta sulla Movida. Nel box, Pescara l'arresto. Ancora cronaca. Fugge e tenta di investire in un carabiniere. A Pescara è dedicata la fotonotizia. Una discarica lungo la pista ciclabile. La vedete, praticamente fotografata. Sotto accusa. Controlli e manutenzione. In basso, l'Aquila rinasce. Cattedrale crollata. Lavori entro l'estate. Ci spostiamo adesso sulle colonne dei quotidiani nazionali per vedere anche qui le notizie principali. Partendo dal Corriere della Sera, lo scontro finale sulle liste. Renzi in campo, la squadra più forte. Centro-destra, il pressing degli esclusi. Il PD, la torre, io fuori. Ha prevalso la logica del capo. La Lega candida. Bossi a Varese. In alto per lo sport. Federer da leggenda. Ha vinto 20 slam. E poi la fotonotizia. Mister Ikea, che inventò i mobili pop. Ingvar Kamprad era l'ottavo più ricco al mondo. 91 anni ed è morto. Cambiamo quotidiano. Adesso la Repubblica ha anche qui questioni che riguardano il voto. Anzi, più le candidature che il voto. La resa dei conti dopo il voto. Berlusconi offre un patto all'Unione Europea. Il leader di Forza Italia ha Juncker. No al governo con Salvini. Per i democratici. Polemica per gli ex forzisti. In lista le analisi. Il commento di Piero Ignazzi. La minoranza senza strategia. In retroscena le larghe intese a Bruxelles. Firmato da Claudio Tito. La fotonotizia. Migranti riprendono sbarche e stragi in mare. Caos in Libia. Allarme del Viminale. In basso, Lombardia. Regione più a rischio. Sparisce il medico di famiglia. Emergenza anche nelle città. Tra sei anni. 15 mila in meno. In basso, le accuse al regista. Molesti e frenata di Amazon su Woody Allen. Il film in pericolo. Le nuove regole. Venezia subito in tilt per il Carnevale. A numero chiuso. Migliaia. Sono gli esclusi. E poi, vedete anche qui, c'è Roger Federer. La favola infinita di un campione che sa piangere. Ovviamente, commozione al ventesimo slam. Il fatto quotidiano. Impresentabili. Porta escort. Amici di mafiosi. Inquisiti e parenti. Tutti con Berlusconi. Con ovviamente puntato B. In Puglia stravince. Forza gnocca in Campania. E Sicilia invece. I collusi. Scendiamo a centro pagina. Da Milano a Roma. Ora Chinatown è fuori dal ghetto. Storia di copertina. Cosa è cambiato? Dieci anni dopo, le rivolte della comunità contro la polizia. E poi in basso, gastronomia. Perché no? Salvateci dall'invasione dei fake gourmet. Dai treni agli autogrill. Maionese al tè e intrugli. Di imitazione. Cambiamo. Il messaggero edizione nazionale. Lo scontro sulle liste. Spacca i partiti. Alta tensione nel PD. Renzi contrattacca. Non solo fedelissimi. Ma Cuber lo resta fuori. Nel centrodestra protesta contro i paracadutati. Rispunta Razzi. Movimento 5 Stelle riscrive le candidature in alto. Trionfo in Australia. Leggenda Federer a 36 anni. Il suo ventesimo slam. Campionato ovviamente con le questioni che riguardano le romane. Crollo Roma. Passa la Samp 0-1 con gol di Zappata. Lazio stoppa Maro San Siro. Gol irregolare. Aiuta il Milan. Scendiamo a centro pagina. Addio a mister Ikea. Un impero con i mobili low cost. Ivar Camprad aveva 91 anni. Ha rivoluzionato gli arredi in casa. E poi cambiamo decisamente argomento. Sisma. Camerino avrà le sue casette. Ha colto l'appello dopo la denuncia dei 56 docenti. Il governo interventi pronti. Ma è una corsa contro il tempo. E poi torniamo sulla strage di qualche giorno fa a Milano a Pioltello. Manager e tecnici nel mirino dei pubblici ministeri. Il sole 24 ore. Contratti, voucher e paghe. Le novità per colfe e badanti. Triplicati gli addetti ai lavori di cura. Sempre più italiani. In vigore da gennaio gli aumenti irritributivi. La guida per gestire il rapporto domestico. E sono tanti che sono alle prese con dover gestire i lavoratori domestici. In basso, professionisti senza frontiere. In dieci anni è riconosciuta la qualifica UE a 500.000 cittadini. Procedura automatica solo per sette profili. In Italia avanza la tessera elettronica. Andiamo avanti. Il giornale. Giochi finiti. Tutti i nomi. Verso il voto. Chi entra e chi esce. Ecco i candidati alle prossime elezioni. Sondaggi. Il centrodestra avrebbe i numeri per governare. Poi, malore in diretta per Giletti. Interrotta la puntata del talk. Addio al fondatore di Ikea. Ha arredato il mondo. Il tempo. Ecco quanto ci costano gli sfaticati del Campidoglio. Il dossier presenze. Lavoro in commissione. Molumenti intascati. 49 consiglieri comunali. Raggi X tra De Libere, inutili e assenteismo. Per lo sport. Gol di gomito. Altro furto contro l'Azio. A San Siro vince il Milan. 2-1. E sotto la Roma. Roma beffata. Domina la gara. E vince la Samp. I Bucerchetti passano 1-0. Altra questione. Cambiamo argomento. Giudici in sciopero per riavere le armi. Il governo revoca i magistrati onorari. Il tesserino che consente. La detenzione. Libero. Stai male? Aspetta. E crepa. Sanità. Lunghe attese per un esame. Sistema pubblico ospedaliero al collasso. Pochi soldi, pochi medici e troppe richieste. Così i tempi si allungano. 8 milioni di italiani si sono indebitati per farsi curare privatamente. E 12 milioni non si operano perché costa troppo. Davvero incredibile. Le trovate dei tre economisti di Salvini nella tripla foto. Alberto Bagnai, Claudio Borghi e Armando Siri. Come non farsi fregare dall'euro. salvarsi dalle banche e portare le tasse al 15%. Sotto, in cronaca, ama un profugo. Lui la stupra e la deruba. Il clandestino la minacciava e la picchiava per farsi mantenere. Il mattino la foto è dedicata a Dries Mertens. Sempre primi. Ovviamente siamo calcio di Serie A. Sconfitto anche il Bologna. Il Napoli è sconfitto anche il Bologna con due perle di Mertens e un autogol. Sarri, la bellezza è la nostra unica strada. Mi piace. Politano, anche qui vediamo che anche in campagna giostra dei candidati. Forza Italia, sia Luigi Cesaro, PD a Napoli, esce Pinotti. Ed entra Fedeli. Ultima notte di trattative per le liste. Scontro, successa, capolista a Nola. De Vincenti ripescato in Emilia. Insomma, è un risico davvero al limite dell'inestricabile. Il secolo d'Italia, invece, cambia apertura e definisce un disastro. Il Jobs Act, la riforma del lavoro in basso. In primo piano, piano natalità con Fratelli d'Italia. Meloni dice che è una nostra priorità. Nel Partito Democratico, Renzi fa fuori i nemici. Quattro paracadute alla Boschi. E poi, addio a Camprad, mister Ikea. Ideo, il design democratico. La stampa, Letta attacca Renzi. Fare liste è così, un tragico errore. La torre, gli altri esclusi. Neanche una telefonata. Centrodestra, alla stretta finale. Tornano i volti noti. La fotonotizia, la piazza dei giovani. Rivolta contro Putin. Ci spostiamo in Russia. Proteste in tutto il paese. Arrestato e rilasciato. Navalny. A centropagina. Appello di Confindustria. Ragazzi, fate gli operai. Jack Madi, Alibaba, Verde. Siate creativi per battere i robot. Lettera da Cuneo. La scuola. Si adegui al lavoro. Andiamo adesso nelle pagine dei quotidiani sportivi. Eccole qua, che ovviamente come ogni lunedì avranno ampio spazio. Il Gazzetta dello Sport. Il Milan alza la testa e il gomito. Nella foto c'è Patrick Cutrone. Ovviamente batte 2-1 la Lazio con la migliore gara della stagione. Ma l'1-0 di Cutrone e di braccio. Inzaghi si infuria. È incredibile che non sia stato visto. Vedete, nel riquare il tocco con il gomito destro. Di Patrick Cutrone che ha dato l'1-0 al Milan. In alto è stata una domenica terribile per gli arbitri. Varre arbitri. Domenica nera. Napoli in vetta con Mertens. Rigore è quasi regalo. Mani sospetto di Coulibaly e più uno sulla Juve. Per il tennis. Federer campione. Infinito tennis in Australia. Primo slam della stagione. Scendiamo. In altre questioni. Inter nel tunnel ma guadagna e va da pastore. Pari pure con la spalla. Più tre sulla Roma che va. K.O. con la Sampdoria. Ma oggi, come vedete, c'è l'elezione. La Federcalcio. Vota il presidente. Corsa a tre. Sibiglia, Gravina, Tommasi. Trattative continue. Vedremo come finirà. E sarà davvero un lunedì convulso. Quello in Federcalcio. Corriere dello sport. L'apertura è sul Napoli capolista. È sul Magomertens. Il belga ribalta il Bologna. E il Napoli rivola in testa. Ma è polemica. Sull'arbitro Donadoni. C'era un rigore. A loro invece l'ha dato. Politano più vicino. Al Napoli. Altre notizie. Roma è crisi. Giallorossi sconfitti in casa dalla Samp. Gol di Zapata. Giacoresta. Male anche l'Inter. Solo un punto con la spalla. Il caso. La Fiorentina crolla. Tifosi in rivolta. 1-4 interno contro il Verona. Si vota in FIGC. Elezioni trailing. Corrono in tre. Divino Federer per il tennis. Ventesimo slam della carriera. Che detta così sembra una cosa abbastanza normale. Ma è veramente un traguardo incredibile. Quello di Roger Federer. Gol di mano. Var che flop. Inzaghi. Vorrei perdere senza gli errori degli arbitri. Il Milan batte la Lazio 2-1. Con una rete irregolare di Cutrone. Furia bianco celeste. Ma quanti sbagli. Tagliavento e Mazzoleni. Un disastro tra Crotone e Cagliari. Tante sviste. Anche in video. Il commento è emblematico di Alessandro Vocalelli. Se gli arbitri sbagliano anche davanti alla Moviola. Evidentemente la Moviola c'entra relativamente. Forse è chi la va a vedere da rivedere per l'appunto. Tutto sport. Le questioni ovviamente delle due squadre torinesi. Allegri ribalta la Juve. Il Napoli torna in testa battendo il Bologna. Max non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi. E prepara i correttivi. Già da domani a Bergamo in Coppa Italia. Nel Torino. Vittoria e Donzà. Doppio colpo granata. Prima il 3-0 facile al Benevento. E poi l'accordo con il centrocampista. Del Bologna in alto. Federer. E la leggenda conquista il ventesimo slam. Trionfa agli Open d'Australia battendo Cilic in 5-7. Piange di gioia. Quando smetterò? Non lo so. Lo deciderà mia moglie. Mirka in basso. Milan colpo di mano. Rossoneri super. Macutrone segna col braccio. Inter. Spalletti. Pare frustrazione. Non lottiamo. Dice. Le altre. Zapata. Vaisamp. Crisi Roma. Tonfo Viola. Contestazione. E poi per le moto. Testi Malesia. Dovizioso. Esalta. La nuova Ducati. Ci fermiamo qui per la prima parte di mattino 6. Adesso le previsioni del meteo. La pubblicità. E poi rientriamo. E entreremo all'interno dei nostri quotidiani. E vedremo i servizi della domenica calcistica. Seconda parte di mattino 6. Entriamo all'interno dei nostri quotidiani. Ovviamente perché oggi sarà ampio spazio per lo sport. Ma ci sono ovviamente anche tante altre notizie. E partiamo con il centro. Verso il voto. Ovviamente non del 4 prima ma del 4 marzo. C'è un refuso. Forza Italia. Di Stefano resta fuori. Al suo posto la di Nino. E spunta anche Martino. Rivoluzione. Liste nel centro-destra. Terza scalza la Petri. Riappare anche Razzi. La De Matteo al posto della Magnacca. Nel PD. D'Alessandro torna in testa. In basso nel box. Borrelli. Ecco perché non corro. Parla il sindaco di Atessa. Non c'erano le condizioni richieste a vantaggio del territorio. Dall'altra parte la prima richiesta. Il super ospedale finisce al centro della sfida elettorale. Lettera di primarie e associazioni per spingere D'Alfonso a scegliere Pescara. Ma il ministro salva Chieti. In basso all'Aquila potere al popolo presenta le firme in corte d'appello. Ma le questioni del voto come vedete tornano anche sulle colonne del messaggero. Il PD d'Alessandro resta capolista in cognita scontente. Il fedelissimo di D'Alfonso insidiato da Lucia Annibali. Poi il caso rientra. Gli orlandiani minacciano il disimpegno. Sorprese anche nel centro-destra. Pescara testa a scippa in extremis la candidatura alla Petri. Un puzzle in via di composizione. Andiamo nelle città a Pescara. C'è una discarica lungo la ciclabile. Decine di pneumatici abbandonati sulla pista lungo fiume. Pescara bici è la prova che i furgoni circolano indisturbati. Mentre aumentano i percorsi protetti per le due ruote esplode il problema dei controlli e della manutenzione. Vedete la foto che vi avevamo mostrato prima. Altre notizie. I Maneskin presentano il loro chosen. Ressa per autografi e foto da Feltrinelli. Per la cronaca vediamo altre notizie. Tenta di investire un cavrabbiniere preso a notte di terrore. Un chietino 39enne su un'auto rubata sfugge all'alta. Viene arrestato dopo un inseguimento a tutta velocità. Paura a Villa San Giovanni di Rosciano. Tre feriti in un incidente stradale. E poi in basso la Marcia della Pace. Sfilano in mille dalla parte dei migranti. All'Aquila, cattedrale di San Massimo. Lavori al via entro l'estate. Tra pochi giorni sarà consegnato agli uffici del segretariato il piano per la ricostruzione. Ad annunciare lo sblocco di un iter durato da anni. L'architetto Claudio Finarelli. A Sulmona. Nuovo tablet ai vigili. La multa arriva direttamente a casa. Altre notizie. Incidente all'elicottero. Il PM chiede l'archiviazione. Siamo a Fonte Vetica. In basso appalti a Tagliacozzo. E battaglia sulle intercettazioni. Le accuse sono di tentata concussione. Turbata libertà degli incanti. Frode nelle pubbliche forniture. Andiamo a Chieti. Cronaca. Droga e anfetamine per la movida. Pusher in manette. Intercettato dalla squadra mobile. Salvatore Ruggeri. Nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e di pasticche. Altre notizie. Lanciano. L'anziano salvato dal casco. Ciclista investito in via del mare. A San Salvo. Botte tra ladro e proprietari. Dopo il furto. In un negozio. A centro pagina. Violenza sessuale su un dodicenne. E' chiesto il processo per un anziano. Lanciano. L'uomo però respinge le accuse. In basso in 800 avvasto puntaderci al corteo contro il cementificio. Queste sono immagini della protesta. Proprio contro il cementificio. Siamo a Teramo. Scritte razziste nel giorno della memoria. Sdegno totale. La CGL è infangato il nome di chi ha speso la vita nella lotta partigiana. Sollecitato l'intervento della magistratura per accertare di chi sono le responsabilità. Parco del mare. Siamo a Martinsicuro inaugurato. Senza però essere stato completato. Altre notizie. Ad Alba Adriatica. Ricorso al TAR contro i pennelli parasabbia. A Giulianova il criminologo Ezio Denti regge la tesi di Santoleri. Ricorderete la vicenda che ha riguardato la scomparsa e la morte di Renata Rapposelli. In basso. Vasi contro il balcone del coordinatore di Forza Italia. Siamo a Giulianova. La denuncia di Costantini. Mentre ragazzini si intrufolano nelle case. Vedete la foto. Questi vasi evidentemente devono essere stati lanciati. Prima di andare allo sport torniamo sul centro. Anche qui entriamo nelle cronache delle città. A Pescara comune 200 mila euro per le telecamere. In arrivo i lampioni intelligenti e le forze dell'ordine indicano le priorità. Pescara vecchia, piazza Muzzi e lungomare. E queste sono misure contro il degrado e gli incivili. Cronaca ancora in fuga sull'auto rubata. In seguito è preso. Serata movimentata a Porta Nuova. Un 39enne cerca di investire un cabiniere. Scappa a piedi e ne aggredisce un altro. Una caccia all'uomo in via d'annunzio. Altre notizie. L'appello di Coletta. Lo scomparso è tornato a casa. Il Mauro Coletta. Il cui caso era finito anche a chi l'ha visto. Via i parcheggi in via Muzzi. A Pescara rimaniamo i residenti. Ora le barricate. Da oggi apre il cantiere per la pista ciclabile. In sostituzione dei posti auto. E domani abitanti e commercianti in strada per bloccare i lavori. La segnalazione piazza Le Laudi. L'accesso al mare è negato. E poi la città ricorda il giudice Alessandrini. Il ucciso 39 anni fa. Altra notizia. E' morto Johnny. Il prof musicista. Tanti ex colleghi al funerale di Saturni. Ex docente dell'artistico. E poi addio anche al vignettista Enzo Martocchi. Accompagnò la nascita del centro. Ancora. Banda all'assalto delle case. Rubata anche una cassaforte. Fine settimana all'insegna dei furti. E sempre con la stessa tecnica del buco. Finestre forzate. E saccheggia spoltore. Loreto. Civitella. E colle Corvino. San Teofemia. Capriolo entra in paese. Aggredito dai randaggi. Arrosciano. Scontro tra auto. Due persone rimangono ferite. Acchieti. Droga dello sballo tra i vestiti. Arrestato. Blitz della polizia. Acchieti. Anfetamine e mezzo chilo di marijuana a casa di un disoccupato. La giustificazione è spaccio perché non ho un lavoro. Ancora. Cronaca. Sorprende il ladro e lo picchia. San Salvo. Un negoziante scopre un giovane. Lo affronta e lo caccia via. Acchieti. Ronde contro i vandali. Volontari scendono in strada. In basso. Corteo per le scuole sicure a Chieti. Oggi la protesta degli alunni. E poi la parata di cuochi abruzzesi alla Camera di Commercio. Meeting Cucina. Fattappa. Proprio a Chieti. La protesta. Siamo a vasto. In Ottocento marciano per Punta Derci. No al cementificio. Corteo dalla Escal fino alla riserva naturale. Culla del turismo. Caserta. Un territorio da salvare. Salvatorelli. La politica. Dica. stop a un paesaggio. Che è quello che vedete per esempio raffigurato in questa foto. Davvero mozzafiato. All'Aquila. Palazzo di giustizia senza parcheggi e bar. Edilizia giudiziaria. I problemi risolti. Franca Bandera. Presidente della Corte d'Appello. Sprona il Comune a rivedere. A provvedere. L'avvocato con la grande di questo passo. La città perderà degli uffici importanti. Corona capicchiato a sangue. Un 41enne. Forse un pestaggio per droga. Siamo a Sulmona. In basso. Metanodotto. Sempre a Sulmona. Ecco la difesa della SNAM. Sulmona. L'azienda. Si tratta di un impianto privo di rischio sismico. E senza impatto ambientale. A Teramo. Tragedia sulla strada. A Montorio. Scontro frontale. Muore un cinquantenne di Isola del Gran Sasso. Violento impatto tra due auto sulla 150 al bivio di Leoniano. L'uomo era vedovo e aveva perso. Pensate. Un fratello in un incidente. Queste sono le immagini terribili della macchia. Dopo lo schianto in cui ha perso la vita Luigi Di Gian Camillo. Ad Arsita. Un centinaia ricordano della vigna. Perito agrario e attivista politico. Un suo rene ha salvato il nipote a 30 anni. Dalla morte in basso. Silvi. Tanti ragazzi per l'ultimo saluto a Siria Reale. Ieri funerali della studentessa e campionessa di pattinaggio di 14 anni. Morta per una grave malattia. Lo sport. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata allo sport. Calcio mercato. Il Pescara ritorna su Embalo. Biancazzurri i protagonisti sul mercato. Il manto erboso dell'Adriatico è il migliore della serie B. Questa è la pagina di copertina di tutto lo sport. Serie C. Il grande nemico del Teramo ora è la paura. Vediamo altre notizie che poi approfondiremo andando avanti con le pagine. Serie D. Colpo San Nicolò. Brindano, Francavilla, Vezzano e L'Aquila. Eccellenza, il Chieti rallenta. Il Giulianova torna a più 5. Promozione Virtus Teramo. Bracca il Ponte Momano. Delfino FP a tutto gas. Ma altre notizie che riguardano il basket. Roseto, la vittoria della Speranza. Nel scontro diretto. Finito 85-69 con Orzi Nuovi. E poi in serie B, sempre di basket. Domenica negativa per le Abruzzesi. Entriamo all'interno dello sport, ma come vedete c'è l'apertura che è dedicata alle elezioni in Federcalcio. Il calcio sceglie il presidente. L'Abruzzo ti fa gravina, ma è una roulette russa. Tre candidati in ordine sparso. Tommasi insiste. Sibiglia sostenuto dall'Otito. Sono 275 i delegati. Può accadere di tutto. Il CONI vorrebbe un rinvio. In realtà il CONI sta seriamente, continua a tenere come prospettiva anche il commissariamento della Federcalcio. Andiamo avanti. Il Pescara torna su Embalo. Fiamozzi-Bunino si chiude. Mercoledì stoppa le trattative. Il Palermo apre alla cessione dell'attaccante. Embalo, il terzino e la punta pronti a dire sì a Zeeman. Oggi il primo allenamento per Macin, che è l'ultimo arrivo in casa bianco-azzurra. Il manto erboso dell'Adriatico è il migliore di tutta la serie B. Questa è una statistica, viene definita una curiosità, ma è un merito evidentemente per l'impianto di Pescara. Capitani allenatori, produttori televisivi e l'agronomo della Lega si legge promuovono il campo di Pescara curato da Cianci. Vediamo le questioni del Pescara sul messaggero perché anche qui è protagonista il mercato. Arrivano Fiamozzi e Macin, lo ha confermato il patron Sebastiani. Il Delfino in pressing su Bunino e Embalo. Le prossime tre partite decisive per Zeeman perché la società non vuole vivacchiare a metà classifica. E, a proposito di nuovi, Gravillon pronto per Frosinone. C'è il dubbio legato a Proietti. In basso per il ciclismo Marco Canola, Nippo Fantini, ti porto in alto il nuovo capitano Cunego. Il nuovo capitano dice Cunego si è messo a disposizione della squadra e per me è un onore. Cambiamo pagina perché andiamo in casa Teramo perché il Teramo adesso ha paura di vincere. A Ravenna un'altra gara dai due volti. Bacio Terracino non è, dice, un problema di calo atletico. Tutto questo dopo il pareggio subito al 94esimo contro il Ravenna che tiene ancorato il Teramo al penultimo posto. E invece sul messaggero altre questioni. Teramo, Candeloro e il suo progetto, il patron del Francavilla, conferma il contatto con Campitelli. Bacio Terracino e il pari a Ravenna dovevamo chiuderla prima. Peraltro ieri, come potete leggere, Candeloro, proprio alla nostra emittente in occasione della gara del Francavilla contro l'Agnonese, ha rilasciato le dichiarazioni che ascoltiamo adesso nell'intervista realizzata. Dania Cantagalli, vediamo. Presidente, abbiamo letto dopo il pareggio contro il San Nicolò alcuni post suoi su Facebook, forse un po' delusi per il pareggio maturato domenica scorsa. La delusione è passata? Strategie di comunicazione. Ogni tanto si butta un sasso nello stagno per sortire qualche effetto. La delusione non è per la squadra, è per i risultati che possiamo avere, perché giochiamo bene, forse meglio di moltissimi altri, e spesso poi non riusciamo a raccogliere, un po' come gli infortuni che ci hanno perseguitato. Però poi bisogna ricaricarsi per le partite successive e ripartire sempre. Altro argomento della settimana sono stati i contatti con il termo, con il presidente Luciano Campitelli. Cosa c'è di vero, a che punto siamo e se effettivamente qualcosa potrà essere fatto? Altre strategie di comunicazione. Il mio progetto di calcio parto da Francavilla, ma non è solo Francavilla. Quindi ci sono movimenti dappertutto. Quando poi i movimenti si consolideranno in un progetto ve lo racconterò. Ma Gilberto Calnerola potrebbe accontentarsi di una partecipazione? Vorrebbe qualcosa in più, magari, per quanto riguarda il terreno? Vorrei incontrare altre persone che possano condividere in pieno il progetto. Poi non è la quantità numerica che fa la differenza, ma l'aderenza di un progetto ambizioso e multidisciplinare. Francavilla nei playoff è il suo sogno per questa stagione? Non è un sogno, dovrebbe essere una realtà, perché la squadra è importante, l'investimento è stato importante, lo staff tecnico è di primissimo ordine. Abbiamo preso dei calciatori di spicco anche in questa campagna d'inverno, anche a 20 punti dalla prima, vuol dire che ci crediamo. Io credo che questa squadra comincia adesso a generare. Da sette partite siamo imbattuti, vinciamo ancora poco, ma credo che non sia un sogno. Il sogno è quello un po' più in là dei playoff. I playoff dovrebbero essere una normale realtà. Il sogno quindi è Francavilla in Serecì? Beh, è l'ambizione del miglioramento continuo. Dopo la D c'è la C. Queste le parole di Gilberto Candelora. Apriamo la pagina di Serie D. Ecco l'apertura dedicata all'Aquila del centro, perché l'Aquila vince, avvicina i playoff. Caffiero e Padovani stendono la San Giustese, che trova il gol del finale. Ma i rosso-blu non si fanno raggiungere. Battistini dice un successo del gruppo, che si sacrifica. Il difensore Pupeschi è una vittoria tra le più importanti, che serve a darci continuità di risultati. Allora vediamo il servizio. L'Aquila batte San Giustese 2-1. Andrea Costantini. Vittoria meritata dell'Aquila calcio. 2-1 sulla San Giustese. Ma quanta sofferenza nel finale, visto che i rosso-blu hanno pensato di avere già in tasca la partita, prestando così il fianco al tentativo di rimonta dei marchigiani. Intanto la zona playoff ora è distante un solo punto. Tra i rosso-blu conferma per dieci undicesimi della formazione, che ha battuto i nerostellati, con l'unica eccezione di Busce, che prende il posto di Marra. Nella San Giustese, Tascini centravanti, Laringe parte dalla panchina. La gara inizia con qualche minuto di ritardo, visto che c'è qualche problema alla reddita. Malgrado l'Aquila abbia la superiorità territoriale, sono i marchigiani che al secondo si rendono pericolosi con una incursione di Villa. E c'è la parata di Farroni. Poi è solo l'Aquila. Al nono, Boldrini, uno dei migliori in campo, finia il panico tra gli avversari. E poi serve in area Padovani, che mette in mezzo con Chiodini, che deve intervenire per non subire l'autogol di Scognamiglio. Spettacolare al quattordicesimo, il gesto atletico di Padovani, la cui conclusione è alta sulla traversa. Poco prima della mezz'ora, la San Giustese deve sostituire il portiere Chiodini, che dopo un contrasto con De Iulis, si fa male alla mano destra. Al suo posto, il dodicesimo Schiavoni. Da qui alla fine della prima frazione non accade più nulla. Nella ripresa è sempre l'Aquila a menare le danze. Al primo giro di lancette, Boldrini serve in area De Iulis, che tira alto. Quattro minuti e Padovani si trova a tu per tu con Schiavoni. L'estremo difensore respinge, palla di nuovo sui piedi di Padovani, che serve Boldrini, di nuovo determinante l'intervento del portiere. Sul conseguente calcio ad angolo, battuto da Boldrini, arriva la rete di Caffiero di testa. Decisivo il difensore, tentato da una esperienza in Serie C, ma che ha deciso di restare in rosso-blu, e si regala una domenica da Bomber. L'Aquila continua ad attaccare, all'ottavo colpisce il palo con Bouchet. Si vede al ventiquattresimo la Sangiustese, Villa entra in area e calcia verso la porta. Farroni respinge senza riuscire a bloccare, spazza via Caffiero. Al ventottesimo l'Aquila raddoppia, il merito è di Ettore Padovani, che sfrutta nel migliore dei modi l'assistenza di Boldrini. A questo punto l'Aquila si rilassa eccessivamente, e i marchigiani si fanno più minacciosi. Al trentasesimo arriva il gol degli ospiti, su un pallone vagante, la difesa aquilana non è reattiva, né approfitta. L'ultimo pericolo per gli aquilani arriva al quarantaduesimo, De Reggi di testa sfiora il palo alla sinistra della porta aquilana. Il pari della Sangiustese sarebbe stato una vera e propria beffa, e invece con la vittoria arriva l'aggancio in classifica dell'Aquila sugli avversari di giornata, e la zona playoff è lì ad un passo. E le questioni dell'Aquila le vediamo anche sul messaggero. L'Aquila ok, Sangiustese battuta 2-1, ottima partita, l'undici rosso-blu davvero sempre più in forma, soltanto nel finale qualche timore. Andiamo avanti, poi ovviamente vedremo tutti i servizi dell'Abruzzesi, Avezzano stende la Vispesaro, grazie a Dos Santos gol. I marchigiani rafforzano il quarto posto in chiave playoff, battendo la seconda, Marfella evita un passivo peggiore ai marchigiani con una serie di grandi parate. In basso, Giampaolo, sono tre punti fondamentali per noi. Belle notizie da Avezzano, un po' meno belle per quanto riguarda l'Avastese, perché l'Avastese prima dorme, poi sfiora la remontata, doppietta di fiore, il Matelica, regina del torneo, segna tre gol nel primo tempo. In basso, mister Colavitto non si capacita, gli abbiamo regalato tutto noi. E allora vediamo i due servizi, Avezzano batte Vispesaro 1-0 e poi la sconfitta dell'Avastese a Matelica per 3-2. Vediamo. La febbre della domenica schizza le stelle sul rettangolo del Dei Marsi. Incrocio di cartello ed alta classifica, Avezzano, Vispesaro a riempire il programma di questa quarta d'andata. Giampaolo senza pellecchia, squalificato Tegola dell'ultimo momento col forfè di Michele Bisegna. Il tecnico chiama Dennis Besana a completare la linea 4 a centrocampo. Davanti i soliti Cerone e Dos Santos. Vispesaro a caccia di una vittoria per restare appesa alla corsa del Matelica. 4-3-3 con Olcese, terminale offensivo e Cruz a partire dalla panchina. Il primo spunto di cronaca è questo calcio di punizione all'undicesimo di cui si fa carico Cerone. Soluzione bassa sul primo palo, palla accompagnata fuori da Marfella. Ancora Avezzano al quattordicesimo, Besana riceve al limite, entra in area cerca Cerone, rasoterra di prima intenzione, nessun pericolo per Marfella. Al diciassettesimo è una delizia quella che d'Eramo serve a Cerone. Sul controllo provvidenziale la pressione avversaria. Si fa vedere la vista al ventiquattresimo, Fanti con i tempi giusti fa sua la sfera. Non è giornata per Giampaolo, alla mezz'ora si fa male anche Cerone. Primo cambio obbligato dentro il classe 98 Marco Acatullo. Primo tempo molto tattico, a tratti noioso. Per uno squillo degno di nota voliamo al trentaquattresimo. Dos Santos premia l'inserimento di Besana, si spalanca lo specchio. Rasoterra morbido sul palo alla sinistra del portiere, palla di poco sul fondo. Al minuto 37 Lombardo cambia gioco per Besana, aggancio e gioco di gambi a guadagnare metri. Servizio all'indietro per Persia che carica la botta, la sfera sfiora la traversa. Sussulto pesarese nel pieno del recupero su un cross dalla destra, Olcese conclude a rete e trova la risposta di Fanti. Non accadrà più nulla, si chiude il primo tempo sul parziale di 0-0, squadra è a rifiatare. Si torna in campo dopo 15 minuti ed è la Vispesaro a battere il primo colpo. Inserimento perfetto di buono punto che punta la porta ma non conclude. L'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte la palla del vantaggio è sui piedi di Dos Santos. Il brasiliano è il tempo di coordinare il tiro ma cicca la conclusione ed è tutto facile per Marfella. Il ritmo è alto e i valori tecnici vengono fuori tutti. Provvidenziale la chiusura di Lombardo al 23esimo. Giampaolo mette di nuovo mano ai cambi. Fuori da Nispesana dentro Michele Priorelli. Cost to cost di Lucas Bardella al 27esimo. Fa tutto da solo il centrale di difesa a 60 metri palla al piede e poi viene messo giù. Calcio di punizione Dos Santos sul punto di battuta. Mancino di potenza Marfella respinge Priorelli sulla ribattuta. Miracoloso il portiere pesarese a dire ancora di no. Doppio cambio chiamato da Riolfo. Fuori carta e buono punto dentro Ridolfi e Cruz. La pazienza premia l'Avezzano concentrato e ordinato. La manovra che sblocca lo 0-0 è un capolavoro in repartenza. Deramo di intelligenza taglia la difesa per Priorelli che intuisce il movimento. La mette rasoterra centralmente dove Dos Santos aspetta scalpitante per il tap-in che vale l'1-0. La reazione della Vista è tutta in questo calcio di punizione. Fanti la blocca. Si giocheranno quattro minuti di recupero. L'Avezzano chiude il muro di Cinta e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara. Vittoria di carattere a dare conferma dell'importanza del campionato avezzanese al cospetto della seconda potenza del raggruppamento. La classifica si accorcia sul secondo e il terzo posto e se il Matelica se ne va la lotta un posto al sole più aperta che mai. Come ad Avezzano la Vastese sotto per 3-0 arriva ad un passo dal pareggio nella tana della supercapolista del Girone pagando però Dazio ad un primo tempo in cui il Matelica è apparso superiore trascinato da un grande Magrassi autore di una doppietta. Poi nella ripresa la reazione di orgoglio dei ragazzi di mister Gianluca Colavitto che ci hanno provato fino alla fine senza però raggiungere il 3-3 che avrebbe premiato soprattutto la capabilità di una squadra che non ha mai mollato. Per la formazione di Tiozzo il successo odierno che bis a quello dell'andata all'Aragona serve per avvicinare la Serie C. Il K.O. non cambia invece l'ottimo campionato della Vastese che deve sì guardarsi alle spalle ma che vede anche la seconda piazza ad un tiro di schioppo. Colavitto non cambia formazione rispetto a domenica scorsa e conferma sinistra Casciani nonostante il ritorno di De Chiara dopo la squalifica 11 tipo per i marchigiani spalti gremiti al Giovanni Paolo II con una corposa presenza nelle settore ospiti dei supporti saragonesi dirige in un pomeriggio tiepido e soleggiato Giordano Di Novara al secondo minuto subito locali pericolosi con un pallone perso agli abruzzesi e conquistato da Magrassi che se ne va da solo verso Camerlengo andando però a concludere centralmente al quinto ancora Magrassi pericoloso con un tiro insidioso che il portiere della Vastese va a deviare in calcio d'angolo inizio prepotente dei marchigiani che sugli sviluppi del corner vanno vicini al vantaggio con una conclusione di poco fuori misura di Magrassi la squadra di Colavitto pian piano esce fuori dalla sua metà campo ma al diciannovesimo sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo è Angelilli di testa a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere ospite la squadra abruzzese non reagisce così la cinica capolista ne approfitta andando a raddoppiare al ventiseiesimo dopo aver scavalcato Camerlengo in uscita e ancora Magrassi a griffare la giornata per il bomber marchigiano e la quindicesima rete stagionale si fa durissima per gli adriatici che appaiono con idea nebbiate e remissivi al cospetto della prima della classe che al trentaduesimo trova il tris e la doppietta personale con Magrassi che con un tiro dal limite non lascia scampo al portiere adriatico e con il pallone che si infila all'angolino partita che sembra quasi chiusa dopo poco più di mezz'ora e che al trentaquattresimo Fiore prova a riaprire con la traversa che va però a salvare De Maglià il finale di tempo poi regala un'altra emozione al quarantaseiesimo con un colpo di testa di Dapollonia che finisce fuori di pochissimo nella ripresa si ricomincia con Bittai al posto di De Feo e con i padroni di casa pericolosi già al primo con un tiro al lato di Gabbianelli al settimo si vede Leonetti per gli ospiti ma De Maglià dice no e respinge al decimo arriva la rete della Vastese su punizione calciata da Pizzutelli in area del Matelica tocca con la mano Angelilli rigore netto assegnato da Giordano di Novara e trasformato da Fiore per il 3 a 1 si rianima la squadra del presidente Bolami e continua a premere anche se al ventitresimo Magrassi di testa sfiora il poker con Camerlengo che blocca sulla linea e con i padroni di casa che chiedono la rete al venticinquesimo tocco in area a Matelicese con la mano di Losicco con la Vastese che chiede il rigore con il fischietto piemontese che lascia proseguire il trascorrere dei minuti fa il gioco dei rossi di casa anche perché la Vastese pur premendo non riesce a pungere e anzi al ventinovesimo in Maroniglia salvare quasi sulla linea su conclusione di Losicco l'ultimo quarto d'ora diventa poi palpitante visto che al trentaseiesimo Brentana terra in area Bittai ancora rigore gol di Fiore che fa 3 a 2 gara riapertissima con la squadra del patron Bolami che cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo i biancorossi ci provano in tutti i modi anche se allo scadere Tonelli e chiamare a Camerlengo alla parata in calcio d'angolo poi 6 lunghissimi minuti di recupero e al novantaseiesimo il colpo di testa di un soffio fuori di Stivaletta per la Vastese arriva la sconfitta ma la reazione della ripresa lascia bene sperare per la gara di domenica prossima in casa della Jesina ancora serie D vedete le mie spalle ieri il derby del Mariani Pavone tra Pineto e San Nicolò fa festa proprio il San Nicolò perché è un tracollo del Pineto di Boni si fa male nel riscaldamento Moretti pensate un po' lo sostituisce al centro dell'attacco e segna per la squadra di Fabio Montani il gol che vale i tre punti e apre ufficialmente la crisi del Pineto per i paroli di casa doveva essere la gara del riscatto ma è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e allora noi ci andiamo a vedere il servizio fermato da Roberta Di Sante seconda sconfitta consecutiva per il Pineto che cede in casa al cospetto di un San Nicolò ben organizzato e messo in campo da Montani non basta agli Adriatici il turnover operato da Amaolo per cambiare l'atteggiamento di una squadra pasta confusa e troppo rinunciataria sbiadita fotocopia della compagine che aveva battuto la capolista matelica nel 4-3-3 dei locali torna Mazzocchetti tra i pali Orlando fa coppia centrale in difesa con Pomante mentre Veroni sostituisce lo squalificato Fiumara a centrocampo torna Zane mentre in avanti Di Rocco e Gragnoli vengono preferiti a Cercelluti e Tomassini Montani schiera di Berardino in porta in luogo dell'influenzato Cannella nel 4-3-3 rientra Bagaglini in difesa mentre in extremi Smoretti sostituisce Tiboni infortunatosi durante il riscaldamento un cambio che si rivelerà decisivo il centravanti è uno dei più attivi fin da principio e al terzo è suo il primo tiro nello specchio della porta che chiama all'intervento Mazzocchetti risponde il Pineto al sesto con un tiro a volo di Esposito fuori bersaglio la squadra di casa è contratta il San Nicolone approfitta al 24esimo Moretti nel tentativo di incunearsi in area viene ammonito per simulazione il centravanti era diffidato salterà la prossima partita il Pineto non riesce ad imporre il proprio gioco il San Nicolò si chiude con ordine e blocca le fonti di gioco locali per poi proporsi con ripartenze come quella che porta al meritato vantaggio ospite che giunge al 28esimo quando la discesa di Massetti dai là per la spaccata vincente di Moretti che appostato sul secondo palo anticipa Pomante e insacca all'angolino opposto alle spalle di Mazzocchetti la reazione della formazione di casa è sterile al 32esimo Mariani prova di testa fuori misura al 33esimo Di Rocco dalla destra chiama all'intervento di Berardino poi Gragnoli viene fermato in offside in avvio di ripresa Amaolo inserisce Pepe per Capitan Pomante e proprio il difensore si rende pericolosissimo al settimo colpendo di testa la traversa girandola di cambi poi per i due tecnici con Amaolo che si chiama a sé anche Gragnoli e Di Rocco per Tomassini e Cercelluti mentre Montani inserisce Cane per Monaco e Massetti lascia il posto a Mozzoni che torna in campo dopo tre mesi di infortunio l'ultima partita all'Aquila il 29 ottobre scorso il late motive della gara però non cambia la partita è confusa e le occasioni importanti scarseggiano al 21esimo Orlando ci mette il piede spedendo al lato rischia poi ancora il Pineto al 24esimo quando Pepe salva in rovesciata sulla linea con Mazzocchetti battuto il centrocampo fatica a far filtro la partita non è di quelle spettacolari e il San Nicolò sembra poter gestire il vantaggio provano a portare pressione prima Tomassini con una girata in aria ma la sfera termina al lato e poi Marianeschi dalla distanza ma è troppo poco per un Pineto chiamato ad un riscatto che non c'è stato e che si chiude e gli scogliatoi a fine partita per oltre un'ora ad esaminare una prestazione indubbiamente da rivedere in un periodo difficile tre punti d'oro invece per il San Nicolò che conquista la prima vittoria in trasferta dell'era Montani e fa un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza e il San Nicolò come vedete anche sul messaggero in guaia le velleità del Pineto un gol di Moretti ha deciso il derby male i padroni di casa le reazioni in basso Amaolo spogliatoi a muso duro Montani invece dice una gara perfetta andiamo in alto perché le questioni legate al Francavilla Agnonesi al tappeto Francavilla ok grazie gol di Molenda e Fofanà Giallorossi Sciupponi Iervese siamo esperti nel complicarci la vita ma è arrivata comunque la vittoria per i Giallorossi 2-0 contro l'Agnonese in servizio di Ania Cantagalli vediamo il Francavilla soffre rischia ma suona l'ottava contro l'Olimpia Agnonese un gol per tempo condannano i molisani e regalano ai Giallorossi l'ottavo risultato utile consecutivo Iervese ritrova Zerbo dopo la squalifica con l'attaccante che parte però dalla paghina per lasciare spazio ai confermati lungo in avanti il Francavilla parte con il piede giusto Di Cecco vede il movimento di milizia il cui diagonale ad incrociare finisce però fuori l'Agnonese che cerca punti vitali in ottica salvezza giocherà un primo tempo perlomeno alla pari dei Giallorossi i padroni di casa sono fortunati al 14esimo nel vedere Giglio liberato da una punizione di guerra non impattare bene con il pallone poi a due passi dalla porta due minuti più tardi Spacca calcola male il tempo d'uscita dagli sviluppi di un angolo il pallone arriva a Santoro che però tutto solo e a porta vuota non inquadra lo specchio il Francavilla rischia ancora quando Giglio di prima intenzione indirizza di un soffio fuori a togliere le castagne dal fuoco ai Giallorossi ci pensa Molenda il centrocampista è bravo ad inserirsi e Fofanà altrettanto a vederlo in aria servendogli un pallone da spingere solo oltre la linea di porta il vantaggio della squadra di Iervese non tramortisce gli ospiti che continuano a premere al 32esimo Spacca riesce in qualche modo ad intercettare il tocco di prima intenzione da due passi di giro è Palumbo a cercare di dare la sveglia ai suoi ma l'attaccante fa tutto bene al 44esimo non riuscendo però poi a trovare la porta la ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo con il Francavilla che subisce la pressione dei Molesani è ancora Palumbo però a tentare di far qualcosa in solitaria partendo palla al piede e trovando sul più bello la deviazione in calcio d'angolo di un difensore ospite l'attaccante ci riprova poco dopo il quarto d'ora lasciando Rullo sul posto ma non trovando lo specchio della porta la pressione costante ed un po' di stanchezza spingono però l'Agnonese ad allungarsi lasciando ampi spazi ai giallorossi al 21esimo in ripartenza Fofanà non inquadra la porta dalla distanza con Fagliella in uscita i tempi però sono maturi per il raddoppio dagli sviluppi di una punizione calciata alla Palumbo i Molesani fanno Arachiri con Fofanà pronto sulla ribattuta corta di Faiella ad insaccare per il 2-0 clamorosa è l'occasione che si devora di Renzo alla mezz'ora in ripartenza Mele e lo stesso Terzino si ritrovano davanti alla porta ma il tiro che fa partire il giocatore giallorosso a porta vuota è troppo debole e consenta a Frabotta di salvare tutto è l'ultima occasione degna di nota del match prima di vedere Francavillo esultare e pensare già al prossimo impegno casalino anticipato a sabato prossimo contro il Campobasso e dunque vittoria per il Francavillo sconfitta di misura per il Nero Stellati vedete alle mie spalle Rigore condanna i Nero Stellati di Corcia Furioso a Campobasso finisce 1-0 Pratolani sconfitti ma il tecnico contro l'arbitraggio anche su Pacella c'era un fallo in area di Rigore Rigore che non è stato fischiato Nero Stellati che escono dal Nuovo Romagnoli decisamente penalizzati dalle decisioni dell'arbitro De Capua di Nola e adesso vediamo rapidamente le questioni legate al basket impresa Sharks torna in gioco battuta Orzinuovi 85-67 grazie a Super di Bonaventura agganciato Bergamo si riapre la speranza play out il protagonista c'eravamo stufati di passare per quelli che non sapevano lottare e qui ho vinto anche uno scudetto under 20 lo vedete il numero 11 di Bonaventura una serata la sua magica in serie B ride solo il Giulianova Pescara KO contro Recanati vediamo adesso per l'eccellenza in chiusura sempre dalle colonne del messaggero perché Di Paolo e Tozzi Borsoi il Giulianova allunga in classifica gli contro vincendo contro la Miternina che cedono 2-0 ma hanno impensierito la capolista in gol è il duo delle meraviglie gli ospiti furibondi con l'arbitro il Real Giulianova approfitta del passo falso dei Teatini vince con la Miternina e consolida la leadership in classifica questo perché il Chieti viene bloccato in casa dopo 5 vittorie la vetta si allontana i neroverdi pareggiano contro il Miglianico primo gol per Margherita le altre partite Martinsicuro Paterno e Spoltore sono senza freni con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di Mattino 6 che torna domani puntuale alle 8 io vi ricordo gli appuntamenti con la nostra emittente alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale e poi questa sera alle ore 21 in diretta ovviamente replay con Enrico Rocchi per analizzare il momento del Pescara è tutto buon proseguimento di giornata di giornata evo per analizzare il miglianico di giornata anche ... di giornata ... in ora buon Grazie a tutti.